bentornati dipendiamo da dove abbiamo lasciato circa due minuti fa ovvero abbiamo finito di vedere la storia praticamente tutto e mia era un agente speciale abbiamo scoperto tante cose mia appunto era un agente speciale ha mentito a Ethan il video all'inizio del gioco l'ha realmente ripreso lei e in una sua missione doveva semplicemente scortare Eevee come in qualità di sua finta madre più che altro caspita essere un marito di un agente speciale e non saperlo ok un agente speciale che brutta cosa eh ma è un agente speciale non sarebbe un agente speciale se l'avessi saputo il contenuto è stato portato io necretos è un agro membro di qualche soggetto ma arma biologica serie e da utilizzare per eliminazione di soggetto della serie e la tossic... la tossina richiede stimolazione prima dell'uso l'opzione di stimolazione è iniettata in campione... in un campione di cellule... di cellule appartenenti al soggetto nel contenitore della necrotossina... ok... quindi questo che abbiamo qui serve per la tossina per uccidere Evelyn... di fatto... la mitragliatrice non dimmi che ritrovo la mia mitragliatrice... perchè no? secondo me se voglio ritrovarla però devo un punto esclamativo... il forzatile dove ho registrato? no... 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 vediamo... esplora... ci sono le munizioni del mitra vuol dire che in qualche modo si prende... no... 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 è un altro posto ancora... è un altro posto ancora... è totalmente diverso... questo è il corridoio... del video... con le finestre che esplodevano? si... probabilmente funziona... come funziona? non lo so... però ci puoi usare la tastiera... la mia schermata... Ethan... spero di farlo in tempo... ok... il livello basso... l'S2... ma cos'è lei? è un esperimento... è un esperimento... e l'esperimento è 001... ecco perchè la nonna compare e scompare... io sono dell'opinione... e nessuno mi farà cambiare idea... a meno di fatti... proprio espliciti... che la nonna... sia Ibi... non... proprio non ci riesco a... se fai i psico stimolanti ci sono degli oggetti che non puoi vedere... quelli quando hanno il pallino... non li è impito... non li puoi proprio vedere senza... a me fa piacere che ha... ok... ottimo... questo ha servito... eh... questo pure credo... questo pure... anche quello che c'è lì dentro... mi sa... eh... il mio mitragliatore... eh... 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 una chiave... no... non a croce... ma... ah... una chiave porta... un grimaldello... eh... un grimaldello... si... te lo devi andare a cercare... te lo devi andare a cercare... vabbè... erai nella camera del capitano... ma tieni una mitragliatrice infatti... come mi sia... si sta... il come è un po' più complicato... di caso... cioè... è buio fesso... tu non puoi vedere oggetti qua in mezzo... decisamente no... è già aperto... ci scende da... no... qua si sale... eh... sono venuto... da qua... eh... da qui... qui... no... senza essere capitano... da... quel po' a parte lì... sono venuto di fronte... no... a destra... si... c'è un quarto qui... bene... sai che al quarto... ci sono le tue armi... ok... non scoppia... non scoppia... non scoppia... non scoppia... no... mi sa di no... eh... ma... non scoppia... ehm... qualcosa non quadra... ma non quadra proprio... quello sicuramente sarà qualcosa... ovvio però... lì... qua... no... questo è l'ascensore... però posso andare giù... sì... perché per muovermi qua devo buttarmi negli ascensori e salire... se serve... tre... il contenuto è stato portato via... porfa... e poi siamo tornati dove ho detto che mi conveniva... andare... prima... da quella parte... di copra... ok... questo non funziona come il rimoldello... chiaramente... ok... che cosa... il computer... un po' tratto io è rotto... eh ma... io ho... ho problemi a proseguire... i rumori dentro quella roba... già... della mappa... mi dice che posso... qua non c'era nient'altro... giusto? quello che c'era... allora ho fatto... qua... vabbè... ma andando da questa parte... tornando indietro... posso scendere... ok... lì dovresti poter sbloccare... probabilmente... no... l'unico modo per salire a questo piano... è usare l'ascensore... si... ok... voglio le scale all'interno dell'ascensore... invece per scendere... si scende così... ecco... immagino che dovremmo scendere al primo... e salire... magari tramite ascensore... o forse... non mi piace... ah... certo... tutta dove sei entrato... e qua abbiamo già pulito tra l'altro... quindi... si ma non può contare quello che ho pulito io nella... nella cassetta... no... qua abbiamo già pulito proprio quando sei entrato... non nella cassetta... ah già... non l'ho fatto nella cassetta se fosse... ho la chiave... ho il bullone... no... si può combinare... non si può usare... non si può combinare... no... però vedi... ti dice... trova la chiave nell'armaglietto del capitano... ah... cazzo... eh... non hai provato a usare quella... quale? la chiave... aspetta devo riportarmi come si sale... c... c'è... la chiave a croce... quella lì... non hai provato a usare... aspetta... Saliva da qua Non l'ho preso Questo si gira mi dentro No Quindi dici di tornare al quarto piano E provare a usare Non lo so e non hai provato Io penso di averle provate tutte In realtà Hai già provato È inutile Vedi hanno cambiato completamente zona Ti ho detto che eravamo a metà Ha cambiato anche il personaggio Beh ma stiamo perdendo tempo Perché non sappiamo che fare Vabbè ovvio Romale Una blind Ciao Ciao Salve ciao Allora Sanso il capitano È questo È l'armadietto Io qui Chiavi Non le trovo No dico di usare Si è provato a usare la chiave a croce La chiave a croce qui E sì che ho provato a usarla E io quella ti avevo chiesto Ok Ma non è che col te Oh No no Non funziona la bomba No vero No Non posso far scoppiare tutto No La mia domanda era Cioè se hai provato a usare quello lì Non altro Eh ma Cioè nell'obiettivo Trova la chiave dell'armadietto del capitano Ah Eh La chiave è giù La chiave è giù Ancora Quando ascolto te No io ho detto la cosa giusta Sei tu che hai capito male Non è che qui ci va la chiave Aspetta Aspetta Mi avevo dimenticato di questa botola Chiaramente serviva una chiave a bulloni Che cazzo è questa roba fare Il piano è? Il 2 Oh Sono questi Secondo te cosa sono? No È possibile Mi sa che devo andare a prendere quello lì Coltello Perfetto Allora Siamo al secondo piano Secondo piano Aspetta E' quello Sì è quello della caffetta Eeeh Che broia Eeeh Deve non farlo vero? Non lo so Ah porca Porca Il mira di merda Il microonde è un fluido chimico Perché no? Cucini come fluidi chimici Non è una disabilità del song request Almeno su playstation Sarebbe a quanto complicato Eeeh Lui Oh si apre Oh si apre Eh ma Non so quanto bello sia Che si apra Bombe Oh Grimaldello Grimaldello Quello che cazzo è? Quello è robina da spararci Ma dai E basta Non c'è più niente Oddio Grimaldello Oh scusate Eeeh Non che mi faccia schifo il Grimaldello Però Secondo piano è quello che io ho trovato solo nella videocassetta Sì Eeeh Ma non potete uscire da alcunicoli così? Ma perché sbaglio? Spero che aspetto tanto che si addrizzino poi che hanno Qua c'era la roba che vomitava Sì Qui Nella Oh Bene Però la mitagliatrice la vorrei anche Eeeh Prova la chiave Eeeh Grazie Sei proprio d'utilità Oltre ogni immaginazione Eh lo so Lo so Qua c'era la merda o sbaglio? Sì c'era la merda Oh Secondo me c'è la chiave del capitano lì dentro Qua c'è un erbetta Mi può servire Eh Eh mettiamo la bomba però qua chiaramente Eh eh No No Cazzo Tu vuoi piazzare le bombe un buco Aspetta Eh Qua t'ha fatto Ho detto io Ah Ok Quindi Che cambia Sto facendo di capirlo Ci deve essere una qua Ah ok Ah ok Questi non si girano giusto o no? No esatto Penso che ti facciano vedere In che modo sono dritti Quindi il verde in alto E i colori in alto a destra Quindi Questo così E il verde in alto Tecnicamente adesso Non si apre La strada A me Sembra Giusta Eh sì Almeno che Non è quella la chiave Sì sicuramente sì Per forza Almeno che non devono essere Speculari rispetto a questi Alta a sinistra Facciamo un'altra a sinistra magari Esattamente Speculare E infatti Ok Wow Oh oh Questi servono tantissimo Ok Questi qua non si apre neanche adesso No Allora C'è una forza che non ha aperto dietro Sì Forse era quella col fluido No Qui non ce l'hanno Ci sono già stati Non sopra Qui E l'insegna la forza grigia Lì nella cabina degli ospiti Eh Eh ma Quello lì che ti aspetta No 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 Ok Ma poi uno si chiede Oh Io Sono stancato di vedere sangue sullo schermo Ah Ok Qui è dove abbiamo cominciato la videocassetta Esatto Ok Le munizioni di pistola E si salva Onestamente Facciamo che Le utilizziamo Una salvattina La diamo Fa mai male Fa mai male Ok Qua adesso in teoria Io posso andare Perché ho il fluido Non credo Per quel fluido Ma si è sbloccata Era chiusa Era chiusa Semplicemente da questo lato Eh si perché Da quella chiusa Ok adesso torno al terzo E al terzo C'erano robe che si aprivano Una c'ho il grill maldello Per la Per la cassa E poi c'era qualcosa che si apriva Due c'era qualcosa Con il fluido Sì esatto E nel fondo Eh nella stessa stanza Tra l'altro Del Della scatola Della scatola Era sempre Di dritto Perfetto Perfetto Cosa ci sarà qui dentro Monete Oh Si avviciniamo alla magna Monete Monete Cattroia Mi fanno se mi faranno morire Come saltano Non ci sono tanti nemici Ma quelli che ci sono Sono abbastanza Non ci apri questo Riprova No no Chiusa Ma proprio Non provo neanche da prima Questo è il corridoio Esatto Dove te ho buttato giù Esattamente Molto buio Sicuramente uscirà qualcosa Per esserci tutti quei fluidi chimici Probabilmente si Ah ci sono Cosa Che sputa Stai Sì Per esserci Per esserci Stai che schifo è morto ok ok oh c'era qualcosa no anche indietro c'era un altro cassetto i cassetti in questo gioco sono la cosa più inutile che ci possa essere qua c'è un possibile in più secondo me mi porto proprio il cavo adesso si ok non serviva togliamolo era un corrosivo vero? si ma la chiave secondo me ce la siamo fumata però chi l'ha detto? non mi che siamo al secondo piano Ita ne ha al secondo no è al 2S è sottoterra Ita ne ha l'ultimo allora qua ecco ma perché queste porte a me non le apre? cioè qua c'è una porta e bombe non le rileva come porta guarda la mappa è una porta secondo la mappa no non è vero come no? guarda la mappa si è una porta secondo la mappa ma che nulla ma mi dice neanche chiusa proprio la ignora sto cavo cosa cazzo posso farci? rimane il fatto che qui abbiamo finito non c'è nulla ciao che smalissimo quindi qui siamo tornati nel 3 si allora vediamo i liquidi dove sono la 4 no 3 no 2 no 1 si aria di creativo primo piano è dove ho cominciato con lei si e per arrivarci prendo le scale in maniera molto tranquilla vado di qua scendo le scale fino al primo piano e questo no 2 la 1 è dove abbiamo cominciato c'è la bestia in onda e questo fusibile tecnicamente non può fare questo non vuoi non vuoi un po' tranquillo eh non muore secondo me c'è un altro modo per salire da questa stanza o comunque in generale ci deve essere un altro modo per salire No, non era qua. Quale che c'è? Dove aveva quella dall'altro lato completamente Questo? Sì Non l'ho visto C'era tra l'altro un'altra scatola? Esatto Io non avevo l'altra Non è che adesso questa ha una qualche utilità No No Lo so, lo so, è che cazzo sembra una foresta a sto posto No Oh, non dai Uooooooow Inoltre, questa pistola è molto più forte di quella che io ho con l'altro NPM Per il tarifo costante della mia par Magari sono più scarsi i nemici Tra l'altro hai letto la missione? Ripara l'ascensore Quello che ti serve il cavo Già Eh, ma ci siamo giocati però la chiara Ti ho detto, secondo me ce la siamo fumata Secondo me è nella porta col fusibile Ma io come salgo? C'è l'ascensore qua? No Però ci sono delle scale Che dove avevi messo? Dove hai preso il fusibile lì? Qui dove c'era in pace C'era anche l'ascensore Infatti ammazzare così almeno soffermi Sarebbe capace di mettere una chiave nella lavatrice qua Il capitano Massimo qualche oggetto Funzioni nella lavatrice Perché non una chiave, scusa No Qui no Qui avevo guardato non c'era nulla Qui avevo preso il fusibile Che poi diventa verde E' solo da togliere E' solo da togliere quello Non attiva niente No Quindi quel fusibile lo devi lasciare lì Non serve ad altro Secondo me c'è un altro modo per salire Certo abbiamo aperto la porta ora No, è quella la porta d'uscita L'unica porta d'uscita è quella E quella non si apre più Questa è brutalmente rotta Qui non c'è assolutamente niente Credo No Eh, mi sa che Non ho un barco Tipo un canterbo E' una No, l'uno F è... Non c'è fin niente E' questo Un F è abbia finito Si Da qualche parte fra il 2 e il 3 Ci deve essere la chiave Io la voglio quella cazzo di mitragliatrice Eh, prima di scendere giù si Decisamente Non voglio andare con la pistoletta E' questo letto Il 2 abbiamo detto che è quello della videocassetta E la chiave deve essere da qualche parte Qua si salva Ma non c'è nulla di... Non è che ce l'ho io qua, no? Sarebbe ridicolo averla avuto... No Nella cassa Da qui vado al terzo? Si Già fatto? L'abbiamo fatto tutti Ah si, qui ci sono già... Sopra c'erano le bombe Si, si Ma ne abbiamo già fatti tutti i piani Semplicemente Si lo so ma non è quello che ti ho chiesto Siamo persi la chiave Ecco vedi Ah, questo è uno Mi sembra molto un ambiente... La chiave Eccola là Però Per andare al quarto Chiudo forte Perfetto Adesso ci siamo Madonna Per andare al quarto Servivano le scale principali Ovvero sempre dritto Perfetto Si andava al terzo E si saliva dall'ascensore Perfetto 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 Poi scendere E' un fottuto bordello Si si Non potevi fare altrimenti Tante cose Però te le puoi perdere Tranquillamente Si Perfetto Si Perfetto Mio Dio Mio Dio Oh, ci abbiamo fatto Vieni a noi Veloce, dov'è? Roba dietro Mi fa un culo un po' diverso Ora Ok Ora puoi andare all'ascensore Vediamo se si ripara Si ripara da qua sotto? Non mi ricordo No Guardati a sinistra Sarà di controllo probabilmente No Sarà qua Scusami Scusami Cosa? Parla! Puoi tornare nell'ascensore Un attimo C'erano i pannellini da fare Nell'ascensore Mi stai dicendo? Aspetta no Vai Dolce infermeria Non mi fa No, faccio un cazzo In realtà la porta quella lì E' la stessa di questa Solo che Non è una porta Asciso A sinistra Guarda In basso Dove? Questa non è un ascensore Entra dentro lì Ora in basso lì Ah questo Eh Era quello che c'era No ma che è possibile però Ma comunque è possibile Quindi il cavo l'hai messo giusto? Eh sì Però manca il fusibile Aspetta ti porti il fusibile se vi è chiuso poi C'è l'unico altro fusibile che c'è E' quello del piano 1 Che mi serve per salire Che ti serve per salire Ma che c'è lì Come ti è Un bel piano il huso E' un bel piano il visibile E' un bel piano il tutto E' un bel piano il figlio Non è così E' un bel piano il suo cosiddetto Non è davvero no non funziona ma che non c'è un altro modo per salire provo a usare il fluido corrosivo non lo so qua sarebbe per forza effusibile perché in alternativa non ci sono altri posti però c'è delle scale sono delle scalette lì e ci si accede sicuramente c'è un modo per salire al primo piano dal primo piano ancora video cazzo sei grande un altro sali vedi che c'era un modo si io te l'ho detto che quel possibile non dovevo più lasciarlo siamo arrivati vabbè basta andava bene lì ero già arrivato oh perfetto dove lo possiamo scendere s2 vai guarda che non l'hai attivato si 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 la musica siamo già stati si nella videocassetta ok dove abbiamo cominciato la videocassetta musica inquietante minchia che bella queste bombe penso che le puoi piazzare a terra e farci andare sopra i cuori si ovvio però è pieno si veramente è pieno magari devo usarle dopo per il boss può essere potrebbe tranquillamente queste non le fallo l'ho morto non 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 Ah, funziona bene però. Questo è così. Qui c'era un momento? Era qua. E' un tormento al forno, non so perché. I need you to do something. There you come, sit. Ethan. 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 Ehi, shh, shh, I know, I know, I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped you. What do you mean? I'm not a killer son. Neither is Marguerite nor my boy Lucas. Or even Zoe here. That girl Evelyn. She did this. She did this. What the hell is she? And what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her. Yeah, busted out a tanker in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just, she forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her and you can't resist the urge to. Oh, you're a, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key. Alright? You find her, you stop her. Evelyn. You're dead. You're dead. No, you're dead. Please. But how are you talking about this? You're dead. I don't understand. I'm dead. I'm dead. You're dead. You're dead. He doesn't love you. I can make him love me. Don't, don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't do it there. So what? You're not my mom. Remember? You're not my mom. You don't know why I'm not trying to be away from this door. You're not trying to survive. So, I can't do it. Oh, what? Mia, Mia, how? Ma gli avevi dato il siero? Cazzo Era tipo un sogno il tuo Ok siamo tornati Quindi la prossima volta Ricordati di mettere Le monete antiche che trovi con mia Nei box Che penso che adesso non c'erriai più Intanto il box non è in comune Ma qua dove c'è sono? Nella villa? Ah vero il box non è in comune Ma c'è la palude della villa? Sì sì ma sei sempre stato nella palude della villa Sì ok E quella è la nave Quindi sei uscito dalla nave Devo trovare la moccisetta No Posso spostare? No Deve per forza seguire Stavamo Intanto ci sono quasi brutte in acqua Che non capisco cosa Ha pesci morti Ok E siamo tornati Siamo tornati A dove abbiamo preso praticamente la barca Esatto Altro che andare via Solo che entriamo da sotto Perché è bello Oh C'è stata una frana della miera di Patterson Tuone e Bedford si sono rimasti secchi Axley non si reggerà mai più in piedi da solo Ok Cosa ho preso prima tra l'altro? Proiettili Proiettili Miniera Miniera di sale Abercrombie Dal vestito No non sei di una casa Sei in un altro posto ancora Si osservano da quell'elicottero Ah sì un'elicottero Alfa-1 Questo è Bravo-1 Ti senti? Questo è Alfa-1 Report Hai trovato qualcosa? Una scoperta di proprietà di Baker Ha avuto nulla attività Repite Nenna attività Abbiamo trovato evidenza di una skirmazione Eveline? Negativamente Io non ho trovato alcuni messaggi di Baker sull'ucas Alcaldio Non è un'elicottero Probabilmente Hai sapere chi è che era E' 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 Non c'è E' E noi siamo qua questo c'è qua dentro? ah ok mi sembrava troppo blu quindi ho la mitagliatrice anche solo 4 metri antichi ci devono essere altri 4 no, no, la mitagliatrice ah un po' di fluidi chimici quante cazzone ho di mitagliatrice? ho fatto solo questa fluidi chimici non mi servono un coltello dove lo prendiamo? la pistola la prendiamo pure che era un po' più forte infatti il G17 quella è in PM si a me questa sembrava più forte ma non la ho preso pure yeti? no in realtà si solo che il caricatore è un po' più piccolo eh si si e se li mettiamo qua dentro prima o poi arriverà la maglia se non avessi preso i potenziamenti l'avrei già avuta eh vabbè e qui non ci interessa nulla il box abbiamo sistemato qua salviamo ci vediamo da quant'è che va avanti? beh un po' ora do le tre quarti d'ora anche di un po' di più ok allora lo chiudiamo boh e penso di in realtà ci conviene fermarci stasera come vuoi tu possiamo riprendere dopo? vabbè dai per adesso chiudiamo qui magari facciamo l'ultima dopo non so quanto riusciamo a tirare e niente grazie ancora per averci seguito buona serata grazie a tutti